A belli trenoni, come state? Tutto a posto? Oggi finalmente è uscito il pack Tots, ma non un qualsiasi pack Tots, ma il pack Tots Live garantito. È successo di tutto, abbiamo fatto una sculata clamorosa, tante belle carte trovate, pure tanti cessi appedati ovviamente, ma il divertimento è sempre la cosa più importante. Fatevi una risata, mi raccomando, un bel like, seguitemi, tanto non vi costa niente e vi fate un par di risate durante le giornate che puzzano sotto palla. Dopo tutte queste belle parolinetette, andiamoci a vedere il video, soprattutto, andate parlando il culo come sempre. Signori belli, si parte ufficialmente col drop del Tots Live garantito, uscito questa sera, demoniaco, infernale e pieno di buste di piscio. Let's go, ovviamente partiamo dall'account del Fabione che porta pizzicella di tutti, che è scellato più di tutti, no, non è vero, questo periodo è pure sculato. Basta chiacchiere, Tots Live garantito, si parte, andate parlando il culo. Vai, vediamo chi ci sta, io mi aspetto un'altra musichetta. Ecco, già partiamo male, forse continuiamo pure peggio e forse terminiamo proprio un disgrazia. Grande, ma do, che carta, la wever, oddio, mi sento male. C'ho quasi la tachicardia a vedere sta carta, lo sai? Ah, pure doppiona, dici, vabbè, almeno da Mannar Club, manco, buono, buono. Vai, signori, secondo Tots del giornata, vediamo il prossimo, va, na, ma. Oh, Tots, ce lo posso credere? No, come Norvegia, ma come ATT, manca senso. Ma perché Terland? Ma perché Terland, mannaggia, quel porco. Pacco di Tots Live garantito. Veremo chi ci sta, va. Eh, Argentina, dici, dammi Romero. Ma vaffanculo a te questa pippa con dieci pedagli appreso. Ma che è sto cesso? Oh, da mindi. Ma levati dal cazzo. Pimpon. Vai, signori, Tots Live garantito. Let's go, si parte a cazzo dritto. Vai. Vai con sto cazzo, le tozze. No, perché la bandiera dell'America è essere qua. Coglione che manda l'America, Weaver. Weaver. Dell'off. Weaver. Ma che tesurti, ecco. Metti te, metti te così, va. Modric. O Bruno Fernandes, prima o poi usciranno. Inghilterra. Sì, di sì. No, qua vi è perso l'uco. Questo è brutto, pure con me la fame. Mamma mia, guarda che ho fatto sto shift. Vai, Tots Live garantito. Ribartati. Let's check on. Ma bene, chi c'è stata, va. Fammi un po' vedere. Uh. Uh. Una cosa incredibile racconterò. Ai, ai ragazzi. Thirland. Considerate che la Thirland è la migliore che abbiamo trovato fino ad oggi. Pensate che zampata nei coglioni. E dai, vai. Primo se sto cazzo le Tots Live garantito. Let's check on. Che la sculata arriverà. Mi preoccupate, arriverà. No, non è oggi. Non è oggi. Oh, fermi. Fermi un attimo. Aspettare, aspettare. Questo è interessante. Sarkutus. Erkutussiere. Questo costa pure un po'. Questo costa pure un po'. Alla faccia del cazzo. Erkutussiere. Schillerino pazzo. Tutto un bestialito. Un drago. Un fenomeno. Un bel giocatore. Dai, un bel giocatore. Su, quanto costa? 300k. Non rompe i coglioni. Non si muove. Ma che cazzo si è. Di 4-4. Ma deve stare a pezzi. Vabbè, andate a piander il culo. 3-2-1. Tots Live garantito. Na-mu. Vediamo chi ce sta. Germania ATT. Addirittura. Ma che palle. Che palle. Che palle. Ma vaffanculo. Che palle ripeto. Questo è pure caruccio. Ma costa? Meno delle mutande mie. Quindi. Ci vuole una parola d'ordine per sto pack. Sì. Jumilson. Sei il mio dio. Vediamo se il potere di Jumilson ci aiuta. Spagna. Incredibile. ATT passesco. Non ce credo. No. 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 Levate. Levatemi immediatamente. Da davanti. Sto gran figlio di puttana. Perché è una sega di merda. Non te voglio. Vattene. Vattene. Sapi parcia. Proprio a te sei. C'è un cesso di merda. Io Riccardi. Se dico magica bula. Chi te sei in culo. E sculo. Te gifto la sub. Altrimenti. Te banno. Magica bula. Chi te sei in culo. O Riccardo in. O Riccardo. Alla casa. Let's go. No. Ragazzi. Riccardo. Saluta. Ufficialmente. Questa streaming. Grazie mille Riccardo. Sei stato. Un ragazzo della chat. Per tanto tempo. Io. Te voglio bene. Grazie mille. È stato un piacere. Il Fabio te saluta. Con tanto amore. Con tanto cuore. E soprattutto. Ti saluta. Con il gingillo di Dio. Ovvero. Il cazzone. 104 secondi. Per Riccardo Visconti. Sto d'accordo. Penso che questi. Siano a mani bassi. I migliori 104 secondi. Dalla storia. Beh. Mi sono rotto il cazzo. Mi sono rotto il cazzo. Toss. L'avevo garantito. Dal peggior drop. Della storia di FC38. Vai. Vai. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Bellaria. Dove stai? Luca Patrici. Non mi sento più. Non state brutticesi. Dove stai? Bellaria dove sei? Oh dove? Vieni qua. Porca di quella troia. Vieni qua. Vieni qua. Lugito Modric. Vieni qua. Vieni qua. Porca di quella troia. Vieni qua. Vieni qua. Lugito Modric. E' petto. Vieni qua. Becca e porta a casa. Bellaria. Calcula del giuro. Mo voglio le chiette in venti. Guarda. Se c'è una fascia come il culo ce l'hai. Amo trovato Modric. Andre. Non so come sia stato possibile. Non so il motivo. Non so il perché. Non so anche il giuro. Propriamo della torre di vita. Stiamo solo ad aspettare le 10 sub dei bellari. E poi possiamo tranquillamente continuare col pack opening. Ah. Mi fa che me cago sotto. Spagna. Chi è? DC. Chi è sta pippa? Manchester City. Ah. Beh. Ho detto Manchester City. Che cazzo è? No. Spinprone. Vabbè. Lai. Gli Alexandri. Alexandri. Una bella pippa. Questa purtroppo per body type è il macello. Vabbè. Chi te sei in cula? Ados lebbe garantito. No. Questo è Antonio. Niente. È un altro sculato questo. Costa da vorrego adesso. Oh. Guilford. Papa Guilford. Buonasera a Papa Guilford. Bello questo. Beh. Stava simpatico. Che gli vogliamo dire? Eh. Una bella ricorta per poi. Vediamo chi ci sta. Va. Nel sommaggio. Oh. Spagna. Ah. No. No. Questo no. Questo. Questo non si può vedere. Questo raga è veramente brutto. Vai. Dovce l'hai. Vedi. Quei rimagnato del sebrone che sta a pezzi. Che sta veramente a pezzi. Sebrone ragazzi. Sì. Sebrone. Buonasera. Edoardone veramente a pezzi. Giustamente. Edoardone che sta a pezzi. Si merita. Serata epica. Ma sì. Raga. Siamo fatti tutti i salati. Eh. Ragazzi. David Costa è giusto per Edoardo. Anzi. Onestamente. Sto pure a godere. Tiè. Edoardone. Questo te meriti. Ma. Oh. Tre no. Dei premix. Se non so. Ok. Cioè. Forse tutta sta attesa per fare qualche sculata. Che ne sai. Non. Non credo era venuta sculata. Non credo. Ora ci sarebbero bene i dieci bizzi di faina. Ecco. Mo. Raga. Finita la storia bellaria. Tutti attaccassi ai dieci bizzi del faina. Na ma. Ha 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 ha. Mortacci vostra. Che dicono. Si divertono. Ma sì. Raga. Mi conosco. Oh. Spagna. Dici. Incredibile. Non ci posso credere. Eh. Ragazzi. Ecco. Sta. Sta. Grande. Sta. Grande. Struppa. Cancelli. Tiè. Lai. Alexandri. Na ma. Un. Famosissimo. Poeta. Chiedete. E vi sarà dato. Io premo Toss Live. E effettivamente. Vorrei vedere un dogu. Perché giustamente voglio dogu. In Inghilterra. C. O. Del Milan. Ma che è Loft. Loftus. Loftus è chicche. Loftus è chicche. È un bel come balla. Eh. Ti. Pa 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 rupo. Pi pa 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 rupo. Bello chicche. Mamma mia quanto sei bello. Vai. Live garantito. Na ma. Vediamo chi ce sta. Ma vattene affanculo sta pippa al suo. Era meglio il musichetto a doppione o non è bene. Il musichetto è il peggio. Chi ci ha dato? Turland. La signorina Turland. Bella ceppa di cazzo. Prova sta parola magica per sto pick. Se no fai come prima. Tutti i tozze forti mi fai trovare. Se no sgrulla per cazzo e vai a cagare. Guardi io apro questa frase. L'ho letta e apro il pick. E il pacchetto. Voglio vedere che succede. Aspetta. 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 Che forse è fuori maniato di Robinson. Va bene. Va bene se sono rimaniato. Io dico mi applaude. Bravo. Bravo stronzo. Dai questo è caruccio. Vi sa bagnare l'America. Vi attacca un'altra pippa. Invece. Ama. Tosche live. Uhu. Oh Spagna. Io. Ve giuro che questo qua non lo posso veramente vedere. Cioè mi ha proprio scassato il cazzo. Perché è una pippa di merda. Cioè questo regà è una pippa di merda. Se si ha poco da dire è poco da fare. È una pippa a doppia mano. Rafa. Rafa musichetta. Un pippone. Vai. Ecco il Tosche live garantito. Questo è bello Cagliardo. Treno. No. Fermi. Non apri. Mannaggia. C'è il signore aperto. Col telefono che mi ha stirato. Chi è? Chi è la sega? Chi è la sega? Ovviamente è una sega asciata e merda. Le pareva. Eh. Buonasera Joe. Eccila. Terlandona. La grande pippona. Let's go. Nadeva. Piande il culo. Brutini. Bartazzi. E' tra cazzo diritto. Vanno bene tutti. Ciao. Guardate. Saremo venerdì ore 18.30. Ciao. Belli. Saremo venerdì ore 18.30.